Protesta di un gruppo di attiviste davanti a un negozio Saint Laurent a Parigi contro la nuova pubblicità del brand definita umiliante per le donne. La campagna in questione mostra una ragazza che posa a riversa su uno sgabello con calze a rete, tacchi a spillo e pattini a rotelle. Uno scatto in cui, secondo le femministe, la modella appare sottomessa e troppo magra, darebbe un'immagine negativa alle adolescenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.